vi piace fast and furious e vi divertite a giocare a gran turismo o forza motosport e magari avete anche un'auto elaborata in garage perfetto allora venite alla fiera di rimini il 18 e 19 aprile a my special car show già ci saremo anche noi con una missione speciale il trofeo u tuning di omniauto.it tra le auto più interessanti per meccanica estetica ma anche per la passione del proprietario sceglieremo le cinque che ci avranno colpito di più e consegneremo il trofeo u tuning nella giornata di premiazioni del my special car e non è finita qui perché le cinque vincitrici di u tuning saranno protagonisti di una speciale videoprova che pubblicheremo sul nostro canale youtube e sui social di omniauto.it allora che fate questo weekend ci vediamo alla fiera di rimini